La Juve è uscita con tanti rimpianti dalla Champions, non chiesa ma cattedrale, tuttavia i tre gol fra andata e ritorno non sono bastati. Gli errori della difesa bianconera a Porto e a Torino hanno deciso. Il Porto ha superato l'ostacolo anche senza l'espulso Taremi. Per un'ora la Juve in superiorità numerica è stata anche sfortunata, un palo e una traversa. Ronaldo responsabile per l'eliminazione della squadra bianconera non perché non ha segnato ma per aver sbagliato in barriera sul gol decisivo. Si ragiona sul futuro della Juventus e di CR7. Questa brutta pagina ci ha detto che il calcio italiano in campo internazionale va male. Sono rimaste in corsa l'Atalanta che dovrebbe vincere a Madrid per continuare e la Lazio che a Monaco contro il Bayern partirà da 1 a 4. In Europa League si giocherà domani. Gli avversari sono il Manchester United per il Milan e lo Shakhtar per la Roma. Insomma un panorama non troppo luminoso.